Coltivate la speranza e non abbiate paura della tenerezza, questo è il messaggio di Natale di Papa Francesco, Papa Francesco è al suo primo Natale in San Pietro e per l'occasione ha dato una grande intervista esclusiva alla stampa, una lunga intervista in cui racconta le sue paure, in cui racconta questi suoi primi mesi di pontificato, una paura che colpisce e che dà proprio il segno alla sua idea di Natale, sia la sua idea di che cosa significa, quale vuole essere il cuore del suo pontificato, dice io ho paura quando mi accorgo che i cristiani non sono più capaci di abbracciare, non sono più capaci di accarezzare, non sono più capaci di lasciarsi andare alla tenerezza. Allora io sono qua con Andrea Tornielli, Andrea Tornielli è l'autore dell'intervista e mi inizierebbe raccontare tutto quello che sta dietro queste interviste e poi anche capire che cosa c'è di importante e di fondamentale, intanto ricordiamo una cosa, oltre dopo quella la lunga intervista a Padre Spadaro a Civiltà Cattolica, questa è la prima intervista domanda e risposta che il Papa fa a un quotidiano nel mondo e quindi io prima di tutto ti faccio i complimenti per esserci riuscito. Innanzitutto, dove è stata fatta questa intervista, quanto è durata, come è andata? È stata fatta nella Casa Santa Marta, cioè nella residenza dove il Papa vive, all'ora di pranzo in una saletta che è a fianco del refettorio dove di solito lui consuma i pasti con le altre persone, con gli altri ospiti della Casa Santa Marta ed è durata un'ora e mezza, un'ora e trentacinque per la precisione, non c'erano domande preparate prima, non è stato chiesto di mandare prima delle domande, anche se il tema era, il punto di partenza, il tema centrale voleva essere appunto una riflessione sul Natale e l'intervista è stata registrata, lui ha consentito che fosse registrata, per cui non ho preso appunti, ho registrato e abbiamo dialogato durante il pranzo. Erate soltanto voi due? Sì, certo. Ma lui che tipo di rapporto ha? Andrea Tornielli lo conosce Papa Francesco da quando era il Cardinale Bergoglio, da quando era il Arcivescovo a Buenos Aires, com'è il suo rapporto con i giornalisti, è come quello che ha con i federi quando lo si vede negli incontri pubblici? Diciamo che lui da Cardinale è sempre stato molto parco di interviste, non ha mai avuto un grande espansività nei confronti di giornalisti, si ricordano pochissime interviste, però bisogna ricordare che nel 2010 è stato pubblicato quel famoso libro intervista del Chiesuita, fatto da due colleghi, due bravi colleghi in Argentina, che vendete solo 3.500, poche migliaia di copie e che è un libro intervista che racconta tutta la sua storia ore e ore di colloqui, di registrazioni. Devo dire che da Papa ha sorpreso il fatto che per esempio sull'aereo tornando dal Brasile lui si è sottoposto al fuoco di fila delle domande, per cui adesso ha un approccio che certamente è molto diretto e non problematico con il rapporto con i giornalisti. A proposito di viaggi, nell'intervista racconta, dice che per me Natale mi fa sempre pensare a Betlemme, penso alla Terra Santa e parla dell'idea di rifare il viaggio di Paolo VI, di Papa Montini, che fu il primo 50 anni fa ad uscire dal Vaticano per andare a Gerusalemme e per andare a Betlemme e lui dice, in quel momento si è aperta l'epoca dei viaggi papali e lui dice, io adesso sto lavorando per tornarci, quindi questa è la prossima meta, dobbiamo immaginare? Sì, la prossima meta internazionale dovrebbe essere Gerusalemme, non c'è ancora una data precisa ma si pensa che sarà verso maggio, anche se il viaggio di Paolo VI avvenne dal 4 al 6 gennaio, dunque avvenne in gennaio, però era praticamente impossibile farlo adesso a gennaio e il pellegrinaggio che il Papa vuole fare, lo spiega nell'intervista, è proprio quello per ricordare nei 50 anni quel viaggio che fu un viaggio dal forte impatto ecumenico, perché lì avvenne a Gerusalemme l'abbraccio fra Paolo VI e Atenagora, il patriarca ecumenico di Costantinopoli, per cui era il primo abbraccio da dopo lo scisma, un grande evento e infatti il Papa vuole che a questo suo viaggio ci sia poi Bartolomeo, il patriarca di Costantinopoli, che anzi è anche il patriarca di Costantinopoli che ha invitato al Papa e dunque per rinnovare questo abbraccio. Ecco, c'è questa cosa che viene molto fuori forte dall'intervista, che centrale di questo pontificato vuole essere il riavvicinamento tra le famiglie del cristianesimo, per cui dice oggi c'è, per me è prioritario oggi, e parla di una cosa che è molto forte, dice oggi l'ecumenismo che esiste è l'ecumenismo del sangue, cioè dice quelli che ammazzano i cristiani non gli chiedono la carta d'identità per sapere in che chiesa sono stati battezzati, non gli chiedono se è ortodosso o se è copto o anglicano, nel momento in cui li ammazzano è perché hanno una croce, perché portano una croce o perché hanno una Bibbia. E dice quindi in un certo senso in negativo esiste il fatto che siamo tutti insieme, poi però in positivo invece non viene declinato. Sì, anche se in questo negativo lui dice che bisogna partire dalla realtà che l'ecumenismo del sangue esiste, lui parla più volte di sangue mischiato, cioè il sangue si mischia perché chi uccide i cristiani li uccide in quanto cristiani senza fare tante differenze fra le confessioni, dunque dice che bisogna essere più coscienti del fatto che nella persecuzione siamo uniti, siamo tutti cristiani, per cui dovremmo capire di più la possibilità di essere più uniti anche sotto il resto. Devo dire, e questo è un fatto riconosciuto, due aspetti importanti. Il primo, la sottolineatura che il Papa ha fatto fin dall'inizio del suo pontificato dell'essere vescovo di Roma, questo è qualcosa che facilita il rapporto con il mondo dell'ortodossia. E la seconda cosa facilita anche un rapporto, i buoni rapporti, il fatto che il Papa abiti a Santa Marta e non più nell'appartamento. Perché? Perché quando arriva un ospite ortodosso, un patriarca, un ospite ortodosso, siccome viene ospitato nella stessa residenza dove sta il Papa, il Papa può uscire e andare a coglierlo alla porta quando arriva, ha tante occasioni di stare insieme con lui a colazione, a pranzo e a cena, anche in modo informale e questo colpisce molto gli ortodossi. Io ho avuto modo di fare una piccola intervista a Bartolomeo, primo quando è venuto a Milano nei mesi scorsi ed era molto colpito da questa convivialità, per cui anche la piccola scelta del Papa di non stare nell'appartamento, ma di vivere a Santa Marta, ha anche delle ricadute, dei riflessi in questo campo. È servito a rompere le barriere. Ecco, ma allora dici una cosa, in questo, con tutti i papi precedenti, ma ancora con Benedetto XVI, quando il Papa si muoveva dai suoi uffici veniva sostanzialmente liberato tutto, non c'era nessuno, passava soltanto lui, non è che poteva fare incontri in ascensore o altro. Tu hai raccontato una volta in un pezzo, devo dire, molto divertente, che una volta che il Papa è entrato all'improvviso nell'ascensore, quelli che erano dentro si sono spaventati e lui gli ha detto tranquilli non mordo. In questo senso, com'è l'accoglienza? Come si viene accolti? Ma l'accano Santa Marta è abbastanza simile a un residence, un po' un hotel, c'è un bancone, proprio una reception molto bella, dove si viene accolti. Da quando ci abita il Papa è chiaro che ci sono le guardie svizzere, i gendarmi fuori e anche quando si entra ci sono sempre due gendarmi che sono lì, perché il Papa poi si muove, scende per ricevere persone, quando passa saluta le addette della reception, poi c'è sempre qualche persona che è lì o che è ospite lì o che passa lì, che fa un po' la posta magari per riuscire a dargli la mano, però è un'altra cosa rispetto alla vita in appartamento ed è molto simile a un albergo, c'è proprio una reception dove gli ospiti vengono accolti. Il Papa vive in un piano, in quella che era la suite che veniva data ai patriarchi orientali quando vengono, tanto che quando ha ricevuto Bartolomeo il Papa gli ha detto mi scusi, le ho rubato la stanza e Bartolomeo ha detto ma io le lascio volentieri. Ci sono anche dei passaggi, non dimentichiamo intanto che questa è un'intervista a quello che Time Magazine ha eletto come l'uomo dell'anno. Ci sono dei passaggi e partendo dalla Time Magazine ci sono state polemiche negli Stati Uniti dove la parte più conservatrice della Chiesa non sopporta, ha una grande freddezza verso alcuni passaggi sull'economia di Papa Francesco, su queste aperture e lo hanno accusato addirittura di essere marxista. E lui nell'intervista dice l'ideologia marxista è sbagliata ma nella mia vita ho conosciuto tanti marxisti buoni come persone per questo non mi sento offeso dal sentirmi dire che sono un marxista. Ma questa io trovo che sia una bellissima risposta perché il Papa dice non è che cambia la visione della Chiesa sul marxismo, è un'ideologia sbagliata, però si vede come riesce sempre a trovare il positivo della persona, dice io ho conosciuto tante brave persone marxiste. Bisogna ricordare che quella che era la sua capo ufficio, la capa che dirigeva il laboratorio di analisi dove lui da studente poi lavorava perché il padre voleva che lui lavorasse e studiasse, era marxista, era una comunista di provata fede e lui ha sempre avuto un gran bel ricordo di questa sua responsabile, una donna che poi morì durante il periodo della dittatura fu uccisa perché pretendeva che il lavoro fosse fatto bene, non gli lasciava passare neanche una virgola, pretendeva la serietà sul lavoro e lui ne ha sempre un ottimo ricordo, credo che sia uno degli esempi di marxisti brave persone che lui ha conosciuto per cui non si sente affatto offeso che lo definiscano così. Poi parla di tanti altri temi, di chiese politica, dice che quando la chiesa è politica devono viaggiare parallele, si possono incrociare soltanto se ci sono nell'aiutare il popolo, ma dice quando invece i rapporti convergono, e poi il popolo ha un modo di parlare, infischiandosene nel popolo, allora dice questo inizia un connubio di potere che finisce per, lui dice addirittura, imputridire la chiesa in affari e compromessi. Sì, è molto chiaro, molto forte, molto netto e anche molto duro, perché dice sostanzialmente che l'unica convergenza ci può essere per il bene comune, per il bene del popolo, tutto ciò che viene prima alle spalle del popolo non va fatto perché proprio distrugge, imputridisce la parola forte, imputridisce la chiesa, credo che sia un insegnamento forte che vale in tutto il mondo, sul fatto che non ci devono essere commissioni o affarismo. E di questo tant'è che parla anche della banca vaticana, dello IOR, e dice sul futuro dello IOR si vedrà, quindi lascia aperta qualunque possibilità, ma poi dice, ricorda, dice era stato istituito per aiutare le opere di religioni, le missioni e le chiese povere, poi è diventato come è adesso, che come dire non è proprio molto simile al suo scopo fondativo. No, è chiaro che si riferisce così, anche se non dice esplicitamente, al fatto che adesso funziona come una banca di fatto, anche se non lo è, e dunque noi conosciamo tutti i problemi, anche il cammino che si sta facendo per ripulire, di revisione dei conti e soprattutto per evitare che accadano episodi come quelli tristemente famosi alle croniche, non di 30 anni fa, ma semplicemente di qualche mese fa, negli ultimi anni, ma anche fino a qualche mese fa, per cui c'è bisogno di un cambio forte in questo. Un'ultima curiosità, in che lingua l'avete fatta l'intervista? L'abbiamo fatta in italiano, lui parla in italiano, mi aveva detto all'inizio posso adesso passare allo spagnolo, lui ha detto di sì, perché non ho problemi con lo spagnolo, però poi non è neanche cominciato, per cui ha fatto tutto in italiano, devo dire che passando i mesi, l'ha sempre padroneggiato, passando i mesi si vede anche che è abituato a parlare quasi sempre solo in italiano, anche se ha alcune espressioni che sono proprio tipiche sue, è un linguaggio che è anche bello, colorito, infischiandosene del popolo è un esempio, ma ce ne sono tante di espressioni tipiche sue, però è fatta in italiano. Va bene, complimenti ad Andrea Tornielli, l'intervista la trovate sulla stampa e sul nostro sito. Grazie.